Un altro informe che porta certe inconvenienze con noi, ma è garantizzare alla comunità che mette le azioni di polizia per l'estramento preventivo donano un buon risultato e aumentano il sentito di sentire più sicuro nella roba. Il Ministro di Justi ha sopravviato con ogni azione che riesce a prendere più arma e droga fuori di caglia, lo che è buono. E conto con la cooperazione e i pazienti di comunità per realizzare e controllare anche. Il Ministro di Justi il Ministro di Justi ha sopravviato con le persone, il Ministro del Público e il KPA, che ha preventato di fare le droghe e le manchina, e ha consultato con i ragazzi comissari che ha preventato di fare le arma. E quindi questo è il risultato, e questo è il nostro caso, è un buon risultato, lamentabile, ma è un risultato che ci sono stati che ci sono stati di persone con arma, persone con droga, e che i grandi candidati di persone con ilegali circolano a questi costi ilegali del nostro paese. se è il risultato che ci sono stati di un risultato, e ci sono stati di un risultato che ci sono stati di un risultato. e ci sono stati di un risultato che ci sono stati di controllo, e ci sono stati di un risultato che ci sono stati di controllo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.